La temporanea attenuazione della pressione sta favorendo un afflusso moderato di aree stabili da nord, i cui effetti sono molto leggeri, poco significativi, qualche annuolamento irregolare, qualche brevissima precipitazione del tutto insignificante, veramente poche cose, servirebbe ben altro in questo periodo di lunga siccità. Comunque la tendenza evidente dalla carta è uno spostamento dell'alta pressione atlantica dell'anticiclone verso di noi e questo apporterà un miglioramento, quindi un po' di variabilità a questi due giorni e poi un cielo in prevalenza poco nuvoloso o sereno, però è da mettere in evidenza che da lunedì, da martedì anzi avremo un abbassamento sensibile delle temperature per un afflusso di aria fredda, le minime si avvicineranno allo zero, 1-2 gradi sopra lo zero e le massime non andranno più di 12-13-14 gradi. Intanto questo fine settimana, domani e dopodomani, una velocità variabile con spazi di sereno più ampi per domenica, però sia sabato che domenica potremmo avere due gocce di precipitazione ma ripeto poco poco significative, servirebbe ben altro ora. I venti sono moderati dai quadranti settentrionali, le temperature fine settimana addirittura con temperatura al di sopra della norma, ripeto solo i prossimi due giorni, quindi minime intorno 8-9 gradi, le massime 18-19 forse 20 gradi. L'altadriatico per ora è previsto mosso ma poi tende al poco mosso. È tutto.